Allora, siamo arrivati alla seconda giornata di pratica dedicata interamente alla gentilezza amorevole. Oggi volevo iniziare il discorso un po' prendendo in considerazione anche quello che è emerso durante i colloqui. Mi è stato chiesto più di una volta se metta è come la pratica dei mantra. E in effetti ci sono aspetti in comune e prima di tutto è l'aspetto della ripetizione. Ma nella pratica dei mantra il fine unico è quello di sviluppare la concentrazione. Metta usa la ripetizione ma non necessariamente, ovvero che la pratica di metta può essere anche un semplice inclinare senza alcuna ripetizione alla benevolenza, per cui senza anche la ripetizione delle frasi, che sono solo un abile strumento per inclinare alla benevolenza. Quindi sicuramente c'è questo aspetto in comune che la ripetizione porta al sorgere della concentrazione e anche quindi permetta C'è un'intervista interessante che non leggo completamente ma di cui vi racconto i contenuti, magari prendo alcuni stralci. C'è un'intervista che gli è stata fatta in seguito a una pubblicazione sui quattro Bramaviara, su un libro da lui scritto. E l'intervistatore chiede al venerabile Analeio quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei Bramaviara. Bramaviara sono le dimore divine, è un termine pali, dimori divine in cui anche metta è inclusa. Praticamente metta è il fada ombrello a tutte le altre, è come stiamo sperimentando, è una benevolenza generica. Gli altri Bramaviara sono rispettivamente la compassione, Karuna, che orienta alla sofferenza. Poi c'è la gioia con partecipe, che va invece orienta verso la buona sorte. E poi come evoluzione matura di tutti i primi tre Bramaviara c'è l'equanimità. Quando nell'equanimità non c'è neanche un augurio, c'è uno stato di completo equilibrio per cui si accetta le cose per come sono. Questo in parole proprio strette strette per dire cosa sono i Bramaviara. Quindi, quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei Bramaviara rispetto ad altri oggetti di concentrazione? Ne dice tre. Il primo, i Bramaviara, anche se non si sono raggiunti livelli di concentrazione elevati, permettono di portare la mente a un livello di purezza, lui lo definisce come se si sente, come se si fosse in paradiso. Questo è qualcosa che con un po' di pratica la maggior parte di noi può effettivamente fare. è un livello di conseguimento, e poi questo è tra virgolette, che si può, se così si può chiamare, che è molto più facile da raggiungere rispetto all'assorbimento. Quindi, rimuove anche tutto quello stress che deriva dall'intero argomento che riguarda un livello di concentrazione che porta all'assorbimento. Il vantaggio di uno stato mentale puro è che metta, proprio perché purifica dall'odio, non richiede il raggiungimento dell'assorbimento per arrivare a questo stato di purezza, mentre le pratiche di concentrazione, per avere una mente totalmente pura, bisogna arrivare a quel livello. Un secondo vantaggio è che, oltre alla concentrazione, queste pratiche, le pratiche dei mantra, lui dice, puoi fare riferimento a pratiche che vengono utilizzate nella tradizione Theravada, che sono l'utilizzo di dischi colorati per lo sviluppo della concentrazione, hanno come unico fine quello di sviluppare la concentrazione. E lui dice, ogni minuto, ogni secondo in cui mi trovo in metta, invece, è un momento in cui sono libero dalla rabbia. Metta allena la mente a sperimentare la bellezza dell'essere senza rabbia. Quindi, metta non dice, continua, Anche se metta non è in grado di sradicare completamente la rabbia dalla mente, perché per questo è necessaria la pratica di insight. Ma può fare molto per aiutare in questo compito. Quindi, il terzo vantaggio è un vantaggio più legato a un aspetto psichico della coltivazione dei Brahma Viara e in particolare per come viene praticata la Vipassana in Occidente. E dice, a volte le forme tradizionali di meditazione e Vipassana non offrono a noi occidentali gli strumenti per affrontare problemi psichici. Spesso abbiamo bisogno di integrare con una psicoterapia. Ora, non voglio ignorare tutta questa parte, la considero molto preziosa, ma credo anche che la pratica dei Brahma Viara affronti una parte considerevole del lavoro svolto dalla psicoterapia, parte del quale potrebbe in questo modo essere svolto nel quadro della meditazione buddista. La coltivazione dei Brahma Viara non risolve tutti i problemi, ma una serie di problemi che sarebbero molto difficili da affrontare con le tradizionali tecniche di meditazione e Vipassana possono essere affrontati con la coltivazione dei Brahma Viara. Questo volevo leggere questa intervista che mi ha anche colpito molto sulla pragmaticità di questo monaco, questo venerabile monaco che non solo è un praticante, ma è un profondo anche studioso dei testi. E quindi trovare anche questo aspetto pragmatico legato alla metta, non solo in ambito spirituale, ma anche proprio come mezzo abile per la persona a 360 gradi. Un altro aspetto che è emerso in alcuni colloqui è il senso di estraneità nella ripetizione delle frasi. e questo è naturale che avvenga all'inizio perché come la mente arriva in un ritiro, la mente è abituata a tanti stimoli e a cambiare oggetto continuamente e mantenere la mente focalizzata nella ripetizione sempre degli stessi auspici può creare un senso di disagio e poi soprattutto può risultare difficile perché la mente non è lo stato della mente in cui arriva, che è assolutamente disunita. e quindi quello che succede è che può sorgere questo senso di estraneità verso la pratica per cui la ripetizione sembra vuota, le frasi non sono sentite e questo disagio se non viene riconosciuto e soprattutto se in conseguenza di questo disagio sorge un senso di identificazione legato all'inadeguatezza verso la pratica, questo poi rischia di culminare nel dubbio. Dubbio sulla propria capacità di svolgere la pratica dubbio sulla efficacia anche della pratica stessa. La semplicità è che come sempre ci si comporta anche nei riguardi del dubbio e che non si deve dare una spiegazione non si cerca di dare una spiegazione al dubbio ma semplicemente si continua a inclinare alla benevolenza in modo tale che lo stato malsano del dubbio che disunisce la mente e tale per cui non mina dalle basi la pratica e inclinando alla benevolenza la mente si raccoglie e in questo modo il da sé il dubbio si risolve. Un aspetto anche interessante che lo stesso Karaniya Metta Sutta indica tra le qualità che abbiamo visto ieri questo aspetto dell'obbedienza obbedienza anche un po' unita all'umiltà e anche a un'attitudine aperta e ricettiva per cui ci si pone nei confronti degli insegnamenti con una predisposizione a mettere in opera anche se non si ancora comprende i benefici perché non li si è ancora sperimentati la si mette in opera si continua nella ripetizione basandosi sulla un principio di fiducia sicuramente e di anche di obbedienza ma è una obbedienza proprio legata anche alla fiducia e questo permette poi continuando nella ripetizione quando poi Metta da sé si sostituisce allo stato malsano presente nella mente qualsiasi esso sia la mente che divaga l'irrequietezza la sonore si sostituisce e a quel punto si sperimenta uno stato di benessere per cui se ne comprende il valore dico queste cose per chi è nuovo la pratica perché chi logicamente ha già fatto dei ritiri intensivi è già passato per questa fase per cui ha fatto esperienza diretta di questi benefici e non mette più in discussione l'efficacia e la validità di questa pratica Metta come qualità universale Metta è uno stato della mente a cui chiunque può accedere basta coltivarla tutti hanno la potenzialità di connettersi alla Metta ma non tutti ne sono consapevoli e c'è una similitudine nei testi le similitudini sono sempre molto utili ed efficaci per capire le varie tipologie di persone in cui la Metta viene paragonata a un oggetto di metallo prezioso e in questa immagine si delineano quattro tipi di individui che utilizzano questo oggetto in modo diverso il primo tipo trova questo oggetto prezioso però lo trova pieno di polvere e di ruggine la polvere l'oggetto prezioso rappresenta la Metta la polvere e la ruggine rappresentano la rabbia quindi il primo tipo trova l'oggetto pieno di polvere e ruggine non si accorge che si tratta di un oggetto prezioso per cui lo accantona così com'è allo stesso modo alcune persone non si rendono conto della rabbia non si rendono conto anche della sofferenza connessa con la rabbia e non sanno neanche che c'è la possibilità di superare la rabbia attraverso la Metta per cui quelle persone rimangono afflitte dalla rabbia e neppure si adoperano per cambiare le cose un secondo tipo trova l'oggetto pieno di polvere e ruggine quindi la Metta la trovano però c'è presenza di rabbia come il primo ma sa che è pieno di ruggine per cui lo pulisce e in questo modo può dargli il giusto valore e utilizzarlo al bisogno e quindi allo stesso modo coloro che riconoscono di avere rabbia nella mente e consapevoli di ciò praticano Metta hanno la possibilità di liberarsi dalla rabbia un terzo tipo trova l'oggetto di metallo che è senza polvere quindi è una mente senza rabbia ma non lo tengono pulito per cui con il tempo si ricopre di polvere e di ruggine allo stesso modo coloro che non hanno rabbia nella mente se non tengono la mente protetta praticando Metta quando le condizioni esterne si fanno difficili sorge la rabbia un quarto tipo di persone trova l'oggetto l'oggetto prezioso senza polvere e ruggine e lo tiene pulito e lucido allo stesso modo coloro che non hanno rabbia nella mente non compiono azioni malvagie e continuano a praticare Metta in questo modo tengono la mente protetta e vivono nella felicità legata all'assenza di rabbia non basta mantenere una condotta etica non basta astenersi da azioni malsane perché ci sia gentilezza amorevole nella mente Metta implica fare qualcosa in positivo è necessario praticare in modo deliberato Metta per avere un beneficio da questa pratica c'è un sutta che parla che indica undici benefici legati alla pratica di Metta il Buddha si riferisce ai monaci e dice monaci quando la liberazione della mente mediante la gentilezza amorevole è stata perseguita sviluppata coltivata resa veicolo e base portata avanti consolidata e adeguatamente intrapresa ci si possono aspettare otto benefici quali otto si dorme bene ci si sveglia felici non si fanno brutti sogni è incredibile anche l'aspetto pragmatico della Metta nel senso che uno si penserebbe degli stati sublimi invece proprio va sul pragmatico si dorme bene ci si sveglia bene non si fanno brutti sogni uno è gradito agli esseri umani si è anche graditi agli spiriti le divinità ti proteggono il fuoco il veleno e le armi non lo feriscono e se non si penetra oltre si arriva al mondo di Brahma questo significa che in seguito alla morte poi ci si rincarna nel mondo di Brahma quando un bicco la liberazione della mente mediante la benevolenza mediante la gentilezza amorevole è stata perseguita sviluppata coltivata resa veicolo e base portata avanti consolidata e adeguatamente intrappresa ci si possono aspettare questi otto benefici e questo è un aspetto un po' anche figurato perché oltre agli aspetti pragmatici di cui uno che non ho citato prima è uno è gradito agli esseri umani anche questo aspetto pragmatico della metta che coltivando gentilezza amorevole trasforma la propria essendo una pratica relazionale trasforma le proprie attitudini verso gli altri e questo porta automaticamente le persone che abbiamo intorno a noi ad avere di riflesso la stessa attitudine quindi gradendo noi gli altri anche gli altri gradiscono noi e poi c'è questo aspetto graditi agli spiriti e questo poi richiama anche alla storia che c'era dietro al carania metta sutta in cui le divinità proteggevano questi monaci e vi lascio sperimentare la pratica per vedere se ci sono idee che vi proteggono però a volte in questo senso è vero ovvero che e questo mi è stato confermato anche da altri meditanti che quando si è nella pratica e si entra nella protezione della pratica che si anche metta ma anche nella pratica di consapevolezza si ha questo senso cioè la protezione diventa viene talmente incarnata che si diffonde anche nel quotidiano per cui si ha spesso un'attitudine positiva verso le cose per cui ci si affida e si sa che nel momento che ci si dedica in modo sincero alla pratica si sa comunque che in qualche modo ci viene un aiuto per andare avanti in questa direzione e poi magicamente succede quindi anche questo vi lascio sperimentare metta è uno stato luminoso anche questo è un aspetto che è emerso oggi nei colloqui che proprio si manifesta come un senso di luminosità non acceso ma diffuso e espanso quindi la pratica di metta mette in contatto con uno stato della mente luminoso e espanso e limitato emetta è lo stato della mente di chi ha una mente totalmente pura cioè è lo stato abituale è lo stato in cui dimora chi ha una mente totalmente libera da contaminazioni quello che facciamo noi coltivando metta è proprio purificare la mente dalle contaminazioni in modo tale da avere questi assaggi di purezza che consentono di fare esperienza di questo livello di purezza che solamente una mente totalmente libera ha in maniera continuativa e c'è un sutta che descrive questo aspetto dell'anguttaranicaia dal titolo luminoso biku questa mente è luminosa ma è inquinata da contaminazioni accidentali la persona non istruita non la comprende come realmente è perciò dico perciò dico che per la persona non istruita non c'è sviluppo nella mente luminosa biku è questa mente ed è libera da impurità accidentali il nobile discepolo istruito la comprende come realmente è perciò dico scusate perciò dico che per il nobile discepolo istruito c'è lo sviluppo della mente biku se per il solo tempo di uno schiocco di dita un biku persegue sviluppa e mantiene una mente di gentilezza amorevole è chiamato un biku che non è privo di jana jana è l'assorbimento che agisce secondo l'insegnamento del maestro che risponde ai suoi consigli e che non mangia in vano l'elemosina del paese quanto più dunque chi la coltiva e quindi questo in questo sutta proprio fa capire la preziosità di quel momento anche solo uno coltivare fare esperienza di metta per uno schiocco di dita anche solo per un per un momento così è estremamente prezioso proprio perché si si fa esperienza di una mente libera da contaminazioni ed è proprio in quel momento che si può riconoscere le contaminazioni come un'aggiunta è molto bello questo pezzo quando dicono questa mente è luminosa ma è inquinata da contaminazioni accidentali per cui la contaminazione è una come dire è qualcosa che ricopre uno stato luminoso e espanso della mente che è lo stato di una mente pura coltivare l'abitudine alla metta quindi come avevamo detto prima l'aspetto della ripetizione è un aspetto essenziale e quindi c'è solo questo nel senso il continuo inclinare attraverso la ripetizione attraverso la 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 connessione con la la metta quando la metta è consolidata le frasi passano in secondo piano e se non addirittura non vengono più ripetute e si rimane con la metta e la persona e l'immagine o il felt sense della persona quindi il continuo inclinare in quella direzione ed è proprio la continuità da quando ci si sveglia a quando ci si corica e in qualsiasi cosa si stia facendo rimanere connessi anche senza la ripetizione ma è proprio quella come ho già detto anche in diversi colloqui in quell'attitudine di cura di cura a partire innanzitutto da sé e e poi verso tutti tutto quello che abbiamo intorno questa attitudine di cura è un modo diciamo indiretto ma anzi molto diretto di mantenere questo questo attitudine di gentilezza con continuità durante la giornata perché l'aspetto importante è proprio l'abitudine coltivare l'abitudine a orientare la mente alla benevolenza ed è proprio questo che aumenta la capacità di entrare in connessione con questo stato della mente felice e luminoso tanto più si pratica tanto più diventa una abitudine tanto più si pratica tanto più si accede facilmente tanto più si accede facilmente tanto più si consolida e tanto più si approfondisce ed è a quel punto quindi che si fa esperienza di una mente sempre più luminosa sempre più espansa quindi questa pratica è veramente una possibilità concreta di trasformare le abitudini malsane di trasformare quella contaminazioni accidentali che di cui parlava prima il Sutta dice il Sutta dei due generi di pensiero del Magi Manicaia 19 qualunque cosa un monaco frequentemente pensi e consideri quella diventerà l'inclinazione della sua mente quindi ogni volta che un pensiero viene ripetuto e si rafforzano questo proprio cioè sono sono viene confermato anche dalla dalla scienza dalle neuroscienze si rafforzano proprio dei percorsi neuronali nel nella mente per cui ogni ripetizione è come se si creasse un solco e questo aumenta la probabilità di ripetere lo stesso tipo di pensiero e quindi ed è anche questo il motivo per cui non è facile abbandonare stati distruttivi come la rabbia perché ci sono dei solchi profondi nella mente in cui è che sono difficili ed è difficile non caderci dentro il desiderio l'odio e l'illusione quelle che sono nei testi chiamate le radici malsane sono così profondamente radicate che proprio a causa di questo no c'è la tendenza a considerarle come qualcosa di concreto sono radicate a causa di una ripetizione che ha creato questi solchi per cui sono diventate una 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 abitudine profondamente radicata ma lo è al punto da essere considerate come qualcosa di concreto è come se venisse reificato in un carattere e con cui poi ci si identifica io sono fatto in questo modo questo è il mio carattere io sono iroso oppure io sono illuso io sono una persona avida e questo crea uno stato di di staticità e di rigidità no che non permette la trasformazione dire io sono fatto così no questo è il mio carattere significa non prendersi la responsabilità delle proprie scelte il carattere non è nient'altro che una serie di schemi abitudinari che vengono rinforzati nel tempo con la ripetizione l'insegnamento sul karma del Buddha rende ciascuno responsabile delle proprie azioni e quello che si fa e quello che si pensa e quello che si dice ha delle conseguenze quindi le conseguenze sono nell'immediato ma anche nel futuro quando i semi dell'azione volontaria a tempo debito matureranno l'unico modo per uscire da schemi abituali non abiti è un allenamento persistente e continuativo verso una direzione opposta così da nutrire nuovi percorsi all'interno della mente salutari tanto più si pratica metta tanto più gli schemi non abili vengono riconosciuti e questo consente poi a metta grazie alla pratica di metta di stare con questi stati mentali una volta riconosciuti si impara a stare e in questo modo con questo stare si evita una reazione automatica che è quella che avviene appunto nel fluire automatico delle abitudini e degli schemi malsani ed è proprio questo spazio no nello stare nelle cose così come sono nello stare nella spiacevolezza degli stati mentali senza alimentarli e senza neanche respingerli perché respingerli sarebbe come un modo per alimentarli in questo modo si evita una reazione e a quel punto si ha l'opportunità di scegliere che cosa alimentare e quindi a quel punto si apre l'opportunità di inclinare verso il salutare e inclinando verso il salutare la mente sperimenta la felicità dovuta all'assenza di rimorso la felicità dovuta a uno stato mentale salutare ed è proprio questo stato piacevole della mente che costituisce un rinforzo positivo che diventa che fa in modo che l'inclinare al salutare diventi un processo naturale e in questo modo si nutrono si nutre l'abitudine a risposte abili e di conseguenza si indeboliscono i vecchi schemi reattivi e quindi la pratica offre veramente a ciascuno la possibilità di trasformare e di fare esperienza che è possibile trasformare innanzitutto lo stato della mente per piccoli momenti e poi grazie alla spinta di questa piacevolezza di cui dicevo prima questi momenti si estendono nel tempo diventano un'abitudine e poi diventano il nostro modo di porci nella quotidianità e questo se ne fa esperienza anche in tempi brevi nella ed è quello che diceva anche nella sua intervista Bicco Analaio che per arrivare a questi risultati non bisogna fare anni e anni di pratica intensiva di gentilezza amorevole a volte veramente basta un ritiro qualche giorno di pratica intensiva che rimanendo tutto il giorno inclinando alla benevolenza poi inaspettatamente ci si trova a rispondere a una situazione difficile in modo salutare proprio è una cosa che spesso e volentieri succede e anche diciamo a persone che si cimentano per la prima volta nella pratica di gentilezza amorevole volevo un attimo accennare al processo di purificazione attraverso le categorie quello che noi stiamo per creare un po' il contesto del metodo che stiamo utilizzando come abbiamo iniziato la prima sera praticando con noi stessi e ieri abbiamo praticato con il benefattore oggi con la persona cara e domani mattina passeremo alla persona né amata né odiata questo metodo non è non è stato insegnato dal Buddha nel Karaniya Mettasutta il Karaniya Mettasutta insegna una pervasione della metta in tutte le direzioni e verso tutti gli esseri quindi quello che insegna è una pratica verso tutti gli esseri non tramite le categorie l'utilizzo della delle categorie è un abile espediente per fare fronte a diversi a diverse contaminazioni in modo progressivo la pratica attraverso questa pratica deriva da un commentario il visu di Magga che è stato scritto mille anni dopo dopo il Buddha quindi è un commentario decisamente posteriore in questo la pratica viene viene descritto in questo commentario un metodo sistematico in cui strutturato attraverso queste categorie e il passaggio da una categoria all'altra porta a una crescente difficoltà ovvero come l'ho già descritto anche in altri discorsi l'aumento di difficoltà porta progressivamente a estendere la capacità della mente di aprirsi perché quello che il Buddha insegna di irradiare nel Karaniya Mettasutta in modo illimitato qui lo si fa per gradi cioè liberando la mente piano piano delle sue barriere poi alla fine si è in grado di irradiare in modo illimitato verso tutti gli esseri in tutte le direzioni ma per fare questo bisogna piano piano abituare la mente a rimanere aperta in condizioni sempre più difficili e come lo si fa attraverso le categorie le categorie come espediente utile semplicemente questo ad allargare la capacità di aprire la mente con gentilezza amorevole e ci sono alcuni aspetti che vengono purificati con le varie categorie ed è bello come nei colloqui queste cose tutte le volte vengono ed è veramente così con noi stessi spesso si purifica aspetti dell'orgoglio ma non orgoglio inteso come un senso del sé amplificato ma un orgoglio in senso come inteso in ambito buddista cioè un senso del sé è sminuito cioè di solito le difficoltà nella pratica rivolta a se stessi è perché mostra la presenza di autogiudizio e quindi questo è un aspetto che con la pratica con noi stessi viene emerge e questo anche fa capire l'impersonalità della pratica perché se c'è un'attitudine della mente a inclinare in quella direzione nella pratica verso noi stessi questo aspetto si manifesta e non è un aspetto personale io sono una persona che si giudica sono fatto in questo modo è semplicemente una impurità che è presente per abitudine il benefattore abbiamo visto che il benefattore essendo la persona verso cui si ha un senso di gratitudine e in cui si riconosce gli aspetti amabili è una persona con cui è la persona più adatta con cui costruire la base della pratica però malgrado questo in questa categoria ci possono essere aspetti anche di purificazione quindi oltre che una base già in questa categoria ci sono aspetti di purificazione sempre legati anche all'orgoglio per esempio in questa categoria può succedere che si sta se si sta irradiando gentilezza amorevole verso un maestro anche magari di fama e verso cui si ha una profonda un profondo senso di gratitudine che però può sfociare in un senso di inferiorità e quindi a volte magari c'è un dire che non ci si sente all'altezza di irradiare gentilezza amorevole verso questo maestro e questo proprio è un aspetto dell'orgoglio perché deriva proprio da questo sentirsi inferiori al maestro quello a cui porta la metta la purificazione della metta è e questo livellare il 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 e mettere una totale imparzialità tra tutti gli esseri per cui non si è incapaci di fare una scelta tra l'uno e l'altro e non c'è più alcuna distinzione tra noi e il nostro il nostro maestro come noi desideriamo essere liberi dalla sofferenza anche il nostro maestro desidera essere libero dalla sofferenza questo aspetto proprio di comune umanità la persona cara che abbiamo trattato oggi si purifica l'aspetto dell'attaccamento il nemico prossimo e questo è abbastanza chiaro la persona né amata né odiata detto in modo più breve la persona neutra si purifica la mancanza di connessione e quello che capita in questa categoria è proprio perché non c'è una connessione con la persona non la si conosce non c'è un contenuto su cui appoggiare non sappiamo se è buona se è cattiva non sappiamo nulla è un essere umano basta e malgrado ciò appunto la questa la pratica con la persona aperta è estremamente ricca perché continuando nella pratica si purifica l'illusione che proprio della mancanza di connessione perché il quando la pratica con la persona neutra si sviluppa la persona neutra diventa una persona cara come una persona cara verso cui si è anche un senso anche di gratitudine diventa come un benefattore e quindi l'illusione della mancanza di connessione sta proprio in questo nel senso che le persone che ci sono intorno la mancanza di connessione e l'indifferenza verso il 90% della popolazione ma il 99 999% della popolazione questa mancanza di connessione questa indifferenza è proprio legata all'ignoranza proprio perché la mente non è non è nella nell'attitudine di metta per cui non riconosce la profonda connessione con tutti gli esseri sempre sul solito principio come io desidero essere libero dalla sofferenza tutti gli altri esseri lo desiderano e quindi si entra in questa comune desiderio per cui come io rispetto e ho cara la mia vita anche lui ha cara la sua vita quindi se l'altra persona soffre e c'è anche c'è questo desiderio che inclina appunto verso la compassione di alleviare la sofferenza del prossimo l'altra categoria la persona difficile o quella che viene detto il nemico si purifica l'aspetto della rabbia e logicamente la persona difficile è la persona che ci mette in difficoltà la persona che ci sono due aspetti in questo senso è la persona o che non ci piace quindi è una è la nostra rabbia nei loro confronti la nostra avversità nei loro confronti o è una persona che un altro aspetto che si purifica in questa categoria è la persona che ci ha fatto del male che è ancora un gradino successivo cioè la capacità di accogliere e di aprire in un campo di gentilezza anche persone o che non ci piacciono o che ci hanno fatto del male e capite che in questo modo piano piano tanto più la mente riesce ad aprirsi in condizioni sempre più difficili come queste a questo punto si è in grado di aprirsi a tutti gli esseri ed è proprio qui che si fa esperienza di quella qualità della gentilezza amorevole luminosa e illimitata metta come stato illimitato della mente grazie a tutti grazie a tutti